Naturalmente gli auguri sono per tutti i cittadini e gli abitanti della provincia di Frosinone. Noi oggi qui in Questura abbiamo avuto la fortuna di avere con noi il Vescovo Sua Eccellenza Spriafigo che insieme a noi ha condiviso un momento anche di raccoglimento religioso ed è stata l'occasione per rivolgere gli auguri a tutti gli appartenenti anche delle forze dell'ordine e delle forze di polizia impegnate quotidianamente nella provincia. A livello di sicurezza lo possiamo concludere come il Santo Natale naturalmente ci consiglia di fare con un impegno, naturalmente una promessa e un impegno di continuare a tenere sempre elevatissimo il livello di controllo delle nostre strade, delle nostre città e soprattutto anche nei momenti di festa come questi naturalmente la polizia di Stato non va in ferie ma continua a operare anzi ancora con maggior impegno per tutelare gli interessi e beni della collettività e cercare di garantire il più possibile una pacifica convivenza nelle nostre città. L'anno nuovo noi lo iniziamo intanto con un momento di attenzione verso le persone meno fortunate che hanno difficoltà anche di tipo economico tant'è che in questa occasione è stata stimolata anche una raccolta di beni, di prima necessità che noi destineremo insomma alle persone meno fortunate. Questa testimonianza del fatto che noi viviamo il nostro impegno non come un lavoro qualunque insomma ma piuttosto come un'opportunità di poter contribuire a rendere sempre migliore la nostra società soprattutto in momenti di difficoltà come questo e quindi per noi ecco poter contribuire come dicevamo prima a elevare il livello di legalità nelle nostre strade è un'opportunità più che un sacrificio.